ciao a tutti e benvenuti su questo canale il mio nome gina e oggi volevo parlare con voi della legge della trazione universale allora questo video è stato pensato per prepararvi a un'altra cosa che voglio fare farvi trovare un esercizio molto importante ma naturalmente per arrivare a quell'esercizio che sto provando personalmente e voglio condividerlo con voi voglio farvi come dire ancora più spazio nella consapevolezza voglio farvi capire ancora di più che tu che è tutto qui e ora e adesso allora abbiamo visto tantissime cose finora e questo video vuole essere ancora più semplice vuole essere ancora più o come dire semplificare concetti molto più pesanti nel senso di capire la profondità dell'essere perfetto che sei e quindi di non prendere tanto sul personale la vita e tanto sul serio e ciò che sta succedendo ok allora questo video possiamo anche chiamarlo come le tre cose che devi fare per manifestare ciò che vuoi allora ne abbiamo sempre parlato e ve lo dico sempre che prima di tutto prima di ogni cosa bisogna decidere cosa vuoi cosa vuoi cioè cosa desideri manifestare sei chiaro cosa vuoi manifestare non pensare come quando in che modo deve arrivare da te ok sei chiaro questa è la tua prima cosa in assoluto cioè decidere quello che desideri ok allora la seconda cosa devi essere aperto per ricevere quello che desideri e cioè cosa significa significa avere una mentalità aperta una mente aperta alle possibilità ok sospendi tutte le tue credenze a proposito della scarsità ok le tue credenze le tue convinzioni che ti limitano che ci limitano e cioè queste sono le tre credenze della mente conscia dell'ego prima di tutto l'ego dice mi manca qualcosa per essere completo e di conseguenza lo voglio perché perché non sono abbastanza perché non sono completo perché mi manca non sono completo e ho bisogno di quella cosa per completarmi qualsiasi cosa essa sia ok questa è la prima credenza dell'ego la seconda credenza dell'ego è l'attaccamento quindi mi manca e di conseguenza lo voglio perché se non ce l'ho non posso esistere non sono completo non posso vivere sono morto ok questa è la seconda credenza dell'ego è la terza credenza dell'ego è quella io sono in controllo ok io controllo la vita io sono in controllo ho fatto un video su un corso in miracoli a proposito delle tre credenze dell'ego quindi dicevo la seconda cosa è essere come dire aperto alle possibilità e cioè tutte le possibili realtà esistono già ora adesso in questo spazio intorno a me ok esistono in questo spazio quando io divento consapevole di questo spazio intorno a me vuol dire che divento consapevole di tanta energia e l'energia e tutto quello che c'è vi ho sempre detto di quello che cosa siamo noi cioè energia ok quindi la terza cosa per manifestare ciò che desideri è che devi fare il lavoro dentro di te lavorare dentro di te e cioè diventa ciò che desideri dentro di te ok e come lo fai pulisci come abbiamo detto le tue credenze limitate e limitanti cerca e capisci a quello in cui credi e quindi sospendi queste credenze ok e il lavoro come viene fatto il lavoro viene fatto così quindi visualizzare ok quindi le immagini che metti di te nella tua mente pensiero positivo e costruttivo al pensiero ci aggiungi un'emozione e la ripeti continuamente questi sono i passi da fare quindi pensiero di quello che desidero visualizzo continuamente faccio il mio film mentale a questo ci aggiungo un'emozione perché senza l'emozione non vale nulla ok il pensiero è vuoto lo dico sempre è un vaso vuoto se non ci aggiungi l'emozione ok oppure se a quell'immagine non gli dai un senso un'emozione ok e questo lo ripeti e questa è la formula questa è quanto per fare tutto ciò che desideri nella tua vita questo è il pattern questo è il modello di pensiero dopodiché ti devi dare il permesso che meriti di avere tutto ciò che desideri ok ma per fare tutto ciò la prima cosa più importante è diventare consapevole devi essere consapevole di ciò che pensi di ciò che la tua mente che tu pensi di essere cioè la voce che parla nella tua mente che tu pensi di essere quella voce che devi essere consapevole prima di tutto di ciò che pensi a cui dai attenzione a cui dai energia e di come reagisci a ciò che pensi ok allora io lo dico sempre perché è così noi siamo dei canali ok dei canali praticamente ricordatevi ciò che diceva il maestro io di mio non faccio nulla è il padre mio che è dentro di me che fa tutto ok e cioè noi cosa possiamo fare noi cosa cosa facciamo noi l'unica cosa che possiamo fare e che facciamo continuamente e può cambiare la nostra vita sono due cose solo queste due queste due solamente allora prima di tutto diventa consapevole di ciò che pensi è quello che vi dicevo poc'anzi quel cacchericcio mentale l'ego che ti parla in testa e pensi che quello che parla nella tua testa sei tu non sei tu tu sei l'osservatore della tua mente e del corpo ok dell'attività mentale e del corpo che si muove tu sei l'osservatore quindi dicevo due cose che noi possiamo fare stare attento a ciò che pensi e come reagisci a ciò che pensi queste sono il nostro libero arbitrio questo cosa penso cioè a che cosa do la mia attenzione i pensieri che arrivo a che cosa intrattengo nella mia mente e come reagisco a ciò che penso emotivamente e come aziono perché in base a queste cose si programma la nostra mente un'altra cosa molto importante è quello di avere una mente aperta e quindi come abbiamo detto la seconda cosa era quella di avere una mente aperta alle possibilità avere una mente aperta per avere più abbondanza ok per avere più abbondanza nella tua vita cioè più soldi devi avere chiaro ciò che i soldi significhino ok devi avere chiaro ciò che significa avere soldi per te in generale è uno scambio per un bene o per un servizio a livello subatumico e curarsi ok e cioè energia come te e me ok cosa devi fare con questa energia devi farla circolare devi farla circolare devi essere aperta a scambio di valore se tu dai valore alle persone ok può tornare indietro a te come currency currency come energia non solo torna indietro ma carica più energia e velocità e come e come come una palla che scambio di valore e come una palla che scende a valle ok quindi deve essere aperto a dare a dare non soldi ma tempo consigli amore che gentilezza attenzione queste cose insomma perché qualcuno deve darti valore a te per quello che fai e tu dare valore agli altri devi essere aperto a ricevere e cioè tenere l'ego sotto controllo tenere la mente sotto controllo ok possiamo essere consapevoli di due cose dicevo poc'anzi di ciò che pensi e come reagisci a ciò che pensi queste sono le due cose che noi facciamo continuamente a cosa diamo la nostra attenzione attenzione a quale pensieri intratteniamo nella nostra mente e come reagiamo a quei pensieri perché un pensiero da solo non fa nulla ma quando ci attacchi l'emozione e lo ripeti e lo ripeti e lo ripeti che sia positivo o negativo quella cosa si manifesta è un modello è chiaro che si manifesta non c'è verso che non si manifesti un'altra cosa molto importante è accetta le cose che l'universo ti da le piccole cose per esempio se qualcuno ti offre un bicchiere d'acqua o un caffè il tuo ego è orgoglioso e dice ma no grazie sono a posto ok tu devi dire sempre sì ok non vuoi bere il caffè ok si un bicchiere d'acqua grazie perché l'universo non fa la differenza tra un milione o cento milioni un caffè ok o 50 centesimi che trovi per terra e li butti via ok perché se dici non grazie a qualcuno che qualcuno ti da o a qualcuno ok ecco perché è molto importante avere chiaro ciò che i soldi significhano per te perché non è la carta in sé ok ma che cosa c'è dietro a questa parola soldi ok si grato per le piccole cose intorno a te sempre continuamente apprezzare ciò che hai già e sei grato per quello che hai già ora perché se non sei grato dove ti trovi ora e non dai valore a quello che hai adesso non puoi avere valore ok se tu ti sminuisci se tu non dai valore a ciò che sei ok allora non esiste che riceverai valore devi capire questa cosa che è molto importante io continuo a dire tu sei l'universo tu stai decidendo ogni nanosecondo due cose e due soltanto ok cosa abbiamo detto prima cosa pensi e come reagisci a ciò che pensi e da queste due cose possiamo stare qui a raccontarcela tutto il giorno un'altra cosa molto importante è mettere le tre parti della tua mente in allineamento e come lo facciamo ne abbiamo parlato cercando l'evidenza di ciò che vuoi manifestare ok che qualcuno lo ha fatto in questo caso devi imprimere nella tua mente subconscia quello che vuoi devi farlo come una routine il lavoro di cui ne parlavamo cioè la terza cosa per manifestare lavorare dentro di te guardate che è un vero e proprio lavoro questo ok per programmare il nostro subconscio ok però una volta che la tua mente subconscia ha accettato quel programma quello con cui lo hai programmato e con cui lo hai impresso una volta che il tuo subconscio accetta queste idee con quello che desideri tu non cambierà non potrà essere come dire influenzata dal tuo ego nessuno ti può sabotare nessuno ti può sabotare ok perché è programmata per l'abbondanza per la salute per la felicità per tutto quello che desideri tu una volta che la tua mente subconscia è programmata all'abbondanza ti proteggerà e sia nel bene che nel male ok se tu pensi per esempio di essere scarso e povero farà la stessa cosa la tua mente ti proteggerà da tutto quello che tu non credi in cui tu non credi ok o per dire in cui tu credi quando la tua mente è programmata ti protegge anche per esempio se tu vuoi investire qualcosa in qualcosa e tu credi che quello ti porta a beneficio e altre cose e sei programmato all'abbondanza che la tua mente ok non ti farai investire quei soldi perché perché dietro c'è una truffa ok e quindi la tua mente non te lo lascerà fare perché vede già la fotografia completa allora vedendo questo percorso tu puoi cambiare il tuo mondo tu noi possiamo letteralmente cambiare perché la tua mente lo farà per te una volta che l'hai programmata ecco perché ci devi lavorare e come cambiare la mente ok abbiamo detto prima di tutto bisogna essere consapevole devi essere consapevole di ciò che pensi a che cosa dai la tua attenzione implementare i tuoi pensieri positivi aggiungi mantra affermazioni e messaggi subliminali auto ipnosi ok allora oggi volevo darvi un mantra che io trovo che sia per quelli che fanno resistenza molto molto potente dovete farlo continuamente questo mantra e intenderlo e capire ciò che state dicendo ok per quelli che fanno resistenza io direi che questo è il mantra più forte in assoluto scegliere ciò che volete sperimentare nella vita ok e continuare a dirlo tipo salute successo prosperità pace progresso amore armonia luce e vede un'immagine di salute successo e nel momento che lo dici vedete già in una in un'immagine dove è successo ok in quello che vuoi avere successo prosperità vedi di ricco e attorniato di ogni cosa pace sentiti la pace nel tuo cuore. Progresso, vediti progredire, vediti avanzare, ok? Amore, vediti attorniato dalle persone amorevoli, ok? E senti il tuo cuore che si apre in quel momento, senti che il tuo cuore che si apre a ricevere l'amore. Armonia, essere bilanciato in ogni caso, armonia perché l'universo è armonioso, tutto è in armonia, ok? Luce, luce cosa vuol dire? Luce sei tu, luce è la verità, quindi quando dici luce pensi subito alla verità, ha più luce nella tua mente, ha più spazio, ha più consapevolezza, ok? Quindi luce e allegria. Allegria cosa? felicità e così via. E tutte le altre cose che vuoi aggiungere e continuare a dirlo, perché quando le dici, ci attacchi le emozioni sopra, puoi anche registrarti, ok? Puoi registrare queste affermazioni, aggiungere i tuoi mantra, mettici questa musica rilassante in gamma, alfa e così via, e lasciarle andare continuamente di notte, specialmente se volete mettere le cuffie, oppure vedete voi, come vi pare, e lasciatele continuare, continuare e continuare finché vi escono da tutti i fuori. E anche di giorno. Continuare a implementare i tuoi pensieri positivi. Aggiungi i mantra, affermazioni, messaggi subliminali, autoipnosi e quindi questo quanto ci vorrà? sei mesi, nove mesi, un anno, due? Chi si intercede? Cioè, fai il lavoro e basta. E ora, una volta che sei programmato, niente ti può fermare. Sarai come un treno, ok? Farai in modo che le cose ti cerchino, non cercare tu le cose, ok? Desidera e lascia andare le cose, perché le cose ti arriveranno loro. Sembrerebbe stupido dire queste cose, ma quando non vuoi le cose ti arrivano. Quando li desideri, brami e li vuoi in quel momento con tutte te stesso, si allontanano da te. E quello che dobbiamo fare è desiderare, visualizzare, fare il lavoro e lasciare andare. Non essere attaccato al risultato, ok? Non stare in quello stato mentale di scarsità, non c'è, mi manca, non lo vedo, di mancanza, di disperazione che lo vuoi ieri, ok? Perché una volta che hai imparato come reagisce il tuo corpo a tutto questo, e ti ripeto, una volta che hai programmato il tuo subconscio, le cose arriveranno da te velocemente, così, subito, ok? Perché tu sei la forza creativa dell'amore, tu sei amore, tu sei luce, tu sei connesso attraverso il cuore, attraverso il cuore al campo di energia elettromagnetica, ecco perché bisogna aprire il cuore e vedilo già tuo. Lascia entrare la luce, la luce e la manifestazione dell'amore, ok? Allora, io mi fermerei qui e quindi vi aspetto con il prossimo video, grazie mille e a voi tutti una bellissima giornata, ciao!